Ci vediamo ora i risultati della cooperazione tra Systemi Software Integrative in meccanica compagno di designer di sistema di software avanzato e Robotronix, partner di Silver Alliance dei strumenti nazionali. Abbiamo sviluppato un kit che integra il prodotto di Systemi Software Integrative di distribuzione e servizio di data di distribuzione in l'environio LabVIEW. Questo kit permette di integrare sensori smarts, che sono locati qui, in questo boot e in Taranto, in Italia, in un network intelligente, composta da componenti nazionali. Lo che posso fare ora è attivare un sensore qui, che causa un'azione in Italia, dove la lampa è on. Questo network è aperto e interoperabile. posso mostrare come, per esempio, prendendo un tabletto qui, posso attivare il fan in Italia. Posso stoppare. Ok, i risultati di questa aczione sono vedi immediatamente in Taranto, tramite un semplice pubblico e subito dei dati. Questo paviva la porta per il design e sviluppo di sistemi cooperativi, autonomi, per la grida smarts, la città smarts e la monitorazione di monitoraggio e dell'environio. e la protezione. Grazie a tutti.